grande attenzione ha suscitato l'intervento di massimo la porta c'è posto per te il programma politico andato in onda ieri sera sul cilento channel tanti punti toccati nell'intervista in particolare la porta ha chiarito il suo rapporto con alfieri e con mutali passi vecchi compagni ora competitor sono stato tra i primi sostenitori del progetto alfieri per la città di agropoli un sostenitore convinto prima da elettore nella competizione provinciale poi tra i promotori sindaco alfieri per la città di agropoli nel 2007 sono sceso in campo in qualità di consigliere comunale e ho affiancato il progetto alfieri un progetto dove nel decennio si è partito con un percorso di modernizzazione della città e credo che sotto gli occhi di tutto che quel percorso è un percorso che oggi serve a tutti noi che proponiamo progetti diversi ma che si fondono anche su quelle infrastrutture che si sono realizzate che ad agropoli mancavano però rispetto a quella situazione politica oggi il rapporto con alfieri qual è perché ti dico in città si dice massimo la porta è alternativo ad alfieri altri dicono è una finta alternativa perché massimo è rimane un amico di alfieri assolutamente no io sono amico di alfieri perché non c'è stato nessun problema personale non condivido il metodo che ha voluto imprimere in particolar modo nel momento che lui ha lasciato la città e ha scelto ad amo coppola quale sindaco di questa città io ero stato già chiaro sin dall'inizio che i problemi venivano e sono arrivati e la prova è stato stesso alfieri a volerlo mettere fuori e ha scelto mutali passi e credo che sta replicando un metodo che io non condivido lo sanno tutti tutti gli amici che si trovano nello schieramento di centrosinistra sanno quello che io ho detto nelle riunioni di maggioranza perché la mia persona si è sempre espressa non davanti ai bar ma nel luogo dove si fa politica nel nelle aule del comune dove la maggioranza si riuniva e massimo la porta diceva la sua non condivideva il metodo verticistico e oggi mi contrappongo a quel metodo tante le domande pervenute via social da parte dei cittadini su temi concreti quali i trasporti il turismo e le scuole volevo collegarmi un attimo perché tu hai citato la il tuo attivismo d'assessore al demanio però c'è un intervento che rimane sulla coscienza di quelle amministrazioni che è il porto furbo qual è la 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 tua risposta qual è la tua responsabilità anche rispetto alla gestione di quella di quell'intervento non sono stato ascoltato nemmeno io avrò le prove e modo di giustificare con atti non con parole a difesa della mia persona ci sono atti in comune che io ne posseggo copia che sono pronto ad esibire e vi racconto nel 2007 come ci siamo insediati l'idea era quella di soddisfare una domanda che il porto di agropoli non riusciva più a soddisfare il porto turistico e quello di creare un piccolo approdo nella località l'idazzurro subito dopo alcuni mesi c'è stata la possibilità di avere un finanziamento di 4 milioni di euro che in realtà i 4 milioni erano finalizzati contro l'erosione costiera e l'idazzurro come ben ricordiamo vi è un danno arrecato dall'uomo dalle amministrazioni passate sicuramente ma un danno che dobbiamo ricordare ha rimediato un danno precedente il danno precedente era la totale scomparsa della strada a Vito la strada che collega via kennedy con via lungo testene era scomparsa allora l'intervento di protezione di quell'area andava fatto come sono arrivati 4 milioni abbandonato subito nel 2008 il progetto del porto furbo quella progetto azione indicava l'ufficio tecnico che era idoneo anche a superare il problema dell'erosione costiera e ci siamo fidati tutti io non ero assessore quando sono arrivato nel 2012 il progetto ancora aveva bisogno di un parere il parere via vasse viene chiamato io sono stato in regione ho preso questo parere si è fatta la gara d'appalto come sono iniziati i lavori io ho intravisto il problema qual era il problema che il braccio di protezione intrappolava la sabbia ma intrappolava anche la posidonia e con le dinamiche marine che lo studio modellistico aveva fornito la società di progettazione non aveva considerato questo è il vero danno che il professore ortolani ha più volte indicato però io ritengo che il problema si può risolvere velocemente aprire un varco a ridosso della foce testene noi risolveremo il problema perché anche lì non sono stato ascoltato perché durante la gestione di assessore io me ne sono accorto ho comunicato ai progettisti alla commissione collaudo che era un'opera da non chiudere perché ci dava anche la possibilità del parere via vasse di avere un monitoraggio durante il corso dei lavori e poste opera io sono in condizione insieme alla mia squadra di risolvere anche questo problema me ne assumo tutta la responsabilità perché ne ho fatto parte nel passato seppur nella mia modestia ho indicato con comunicazione sia al rupp al progettista che alla commissione collaudo e al sindaco all'epoca al fieri che quella quell'opera andava modificata non sono stato ascoltato nemmeno in quell'occasione perché il contenitore l'andolfi il contenitore di via europa il contenitore di piazza mozilla il contenitore di muoio che fanno parte del primo circolo didattico credo che non danno una prospettiva ai nostri figli di una di una didattica diversa io mi immagino innanzitutto una didattica a 360 gradi dove non vi è più una didattica frontale ma abbiamo un una tipologia di diversa di come insegnare ai nostri figli e formarli credo che queste strutture per quanto riguarda la landolfi va adeguata per quanto riguarda l'europa va adeguata per quanto riguarda la mozilla è uno dei problemi che da sempre teniamo il fiato sospeso in particolar modo nel periodo invernale con il rischio esondazioni queste tre strutture forse l'unica che può avere un livello di sicurezza perché di recente costruzione e la caffarelli che sta località muoio ma noi come programma immaginiamo la caffarelli nel momento che viene delocalizzata la scuola nel nuovo polo scolastico di utilizzare quella quella struttura con un centro polifunzionale che in località muoio manca e noi dobbiamo dare a questi ragazzini della località muoio un punto di incontro come pure i cittadini e quella e quella struttura potrebbe essere idonea a soddisfare le esigenze della località muoio pertanto io ritengo che il polo scolastico è di fondamentale importanza poi il tutto chiude con il trasporto integrato